La borsa è una borsa con le maniglie, con le due maniglie, la sacca, la classica borsa, non lo zaino, la sacca, la borsa con le maniglie, la borsa è comunque beige, quindi un po' si confonde un po' di più, poi bagnata è diventata un po' più scura, il carabinio è da provare a tastone. Sì, l'ho trovata lì a 108 metri d'arriva, lì è in diagonale. Per corso?